Il contenimento dei costi delle auto elettriche a partire da quelli delle loro batterie, il potenziamento delle infrastrutture di ricarica con più colonnine elettriche sul territorio, sia pubbliche che private, la garanzia di autonomie di viaggio importanti. Sono questi alcuni dei punti chiave per quanto riguarda la promozione dell'utilizzo di auto elettriche. Se ne parla Milano a EMOB nella seconda giornata di lavori della Conferenza Nazionale sulla Mobilità Elettrica. Cobat sta lavorando da tempo a un importante progetto in questo settore. Quali risultati abbiamo? I risultati sono al momento di stima ma sono molto incoraggianti perché certamente uno degli aspetti chiave per poter abbattere i costi di acquisto del veicolo elettrico sono certamente nel costo per kilowattora della batteria. E questo è già confortante poter osservare i primi trend sulle previsioni di costo del kilowattora che sono destinati a scendere quindi all'interno di range certamente molto più sostenibili in termini di mobilità elettrica. L'altro aspetto è invece il fine vita della batteria che ha dei costi ancora oltremodo onerosi e sui quali invece si deve certamente lavorare per fare in modo che il fine vita dell'auto e della batteria ovviamente abbiano dei costi molto più contenuti. In questa direzione va un importante progetto al quale partecipiamo anche noi che è coordinato dal CNR di Milano Stima insieme al Politecnico di Milano e che vede FCA in prima linea gestire il fine vita di questi veicoli con un'ottica diversa, con un'ottica moderna che è quella della prospettiva circolare economica, economia circolare. Cosa significa? Significa che l'auto quando raggiungerà il suo fine vita dovrà e potrà essere fonte di nuovi materiali sia metallici sia plastici sia come batterie che potranno quindi essere riutilizzate attraverso una caratterizzazione della batteria stessa e dei moduli che la compongono per realizzare nuove batterie per applicazioni secondarie e in primo luogo nello storaggio elettrico. Siamo sostanzialmente ancora all'inizio di una sicura rivoluzione del modo con cui la mobilità privata si tradurrà. Passare da uno zero virgola a qualche punto percentuale è la sfida per il nostro paese. Lo zero virgola si traduce in qualche migliaio di veicoli elettrici che sicuramente registrano un incremento di vendita negli ultimi pochi anni e molto positiva negli ultimi mesi. Però scontano diversi fattori critici. Il primo fattore critico è sicuramente quello di un'infrastruttura di ricarica ancora insufficientemente diffusa sul territorio. Al momento il costo d'acquisto, come ha ben detto, delle auto ma in realtà di tutti i mezzi, perché Motusè di quello si occupa, è purtroppo piuttosto alto ma sappiamo che nel 2019-2020 cominceranno ad arrivare dei modelli di segmenti accessibili quindi di fascia media e ci aspettiamo quindi una maggiore pretrazione rispetto alle circa 12.000 auto elettriche private e a qualche centinaio di bus elettrici che ad oggi circolano nel nostro paese. Per quanto riguarda le infrastrutture, come Motusè stiamo cercando di dare sostegno ai comuni e a tutte le istituzioni territoriali che si vedono presentare così tante richieste di installazione e che giustamente non sono ancora completamente preparati o pronti per poter far installare le colonnine sia fast, quindi quelle ad alta potenza sia quelle a potenza contenuta fino a 22 kilowatt nella maniera più semplice e più veloce possibile.